Si è conclusa con un vero e proprio inseguimento, una lite nata per futili motivi in via Alessandro dal Borro e conclusasi a qualche centinaio di metri di distanza in via Concino Concini. Erano da poco passate le 13 dello scorso lunedì quando nel quartiere di Pescaiola i toni tra un professionista retino ed un giovane di origini nigeriane si erano accesi. C'è stato un normalissimo diverbio perché stava sbattendo contro la macchina le fibbie che aveva addosso della felpa io sono sceso e ho detto guarda la macchina si graffia, per me ha un valore, io ci lavoro e ho iniziato a dar via di matto insomma, a dar via di testa, a dire parolacce. Dalle parole si è così ben presto passati ai fatti, il giovane straniero avrebbe prima minacciato l'uomo e poi gli avrebbe lanciato contro dei sassi e da questo punto che la storia ha preso una piega inaspettata dopo aver allertato alle forze dell'ordine la retino ha deciso comunque di seguire il ragazzo sino all'arrivo della polizia. La volante è arrivata a gran velocità, il contatto telefonico è stato tutto molto veramente non posso dire niente, la macchina ha funzionato benissimo, lui è stato preso poi io mi ero allontanato perché alla fine erano spariti lui e la polizia a un certo punto vedo arrivare la polizia a gran velocità con i lampeggianti accesi si fermano di fronte a me e mi chiedono di fare il riconoscimento visivo. Alla fine per il ragazzo con precedenti per furto e danneggiamento è scattata la denuncia per l'imprenditore solamente un lieve danno al veicolo. Un episodio indubbiamente spiacevole ma di sicuro non un reato da prima pagina che ha scatenato una reazione forse addirittura eccessiva che può essere letta come cifra del malcontento e dell'esasperazione comune. Magari qui non è una questione neanche politica, qui è proprio una questione che io a Rezzo non l'ho mai ricordata così, così in basso, così degradata, così poco ma magari anche questi ragazzi sicuramente si sentono emarginati, hanno dei problemi noi questo magari possiamo anche capirlo ma non è così che si affronta il problema ci vorrebbe qualcuno che gli indicasse un pochino come ci si comporta nel mondo civile.